Anche nell'ultimo periodo i parchi giochi del quartiere Vismara sono tornati ad essere protagonisti di atti vandalici da parte di ignoti. Nell'area di via Basento, oltre alla molteplice sostituzione delle porte da calcio, si è deciso di installare una lastra di metallo nella finestrella della casetta in legno, che più volte è stata distrutta per poter accedere all'interno della struttura. Dello stesso tenore risultano essere i danneggiamenti segnalati nell'area giochi privata ad uso pubblico di via Danubio, presa di mira da veri e propri atti di danneggiamento intenzionali ad opera di sconosciuti. Volevo in primis segnalare che questo parco è un parco privato ad uso pubblico e di conseguenza il comune non è tenuto a fare della manutenzione né ordinaria né straordinaria perché ha già i parchi suoi da seguire e i nostri parchi comunali sono anche abbastanza tenuti bene. Vedi il parco ex nuovo di Via Altarello che abbiamo fatto da poco e anche la manutenzione del parco di Vismara sul quale ci stiamo impegnando anche se abbiamo avuto in continuazione degli atti vandalici, però tramite i volontari e tramite anche il comune siamo riusciti a sistemarli al momento. Per quanto riguarda questo parco i giochi sono stati messi penso molto probabilmente dalle ditte che hanno come opera di urbanizzazione e i giochi non sono diciamo usurati nel tempo perché hanno pochi anni, sono come vediamo rotti da atti vandalici perché proprio sdradicati dei pezzi di legno di truzzolare proprio schiantati, abbiamo delle sedute a semicerchio, sono in legno messe con delle viti abbastanza importanti, proprio sdradicati. Abbiamo trovato dei veti, dei volontari del quartiere, proprio consigliere di quartiere che è venuto a pulirli. Qui si tratta di atti vandalici continuativi nel tempo che purtroppo si fa fatica a gestire e il comune non è tenuto a fare la manutenzione. Quello che si può chiedere è eventualmente se si ritiene che siano pericolosi, se possono toglierli. Il quartiere di Vismare ha avuto particolari attenzioni dall'amministrazione comunale in questi anni, dall'apertura della strada attesa da anni di collegamento tra Vismare e Cattabrigli, inaugurazione del campo di calcio, abbiamo sistemato l'area giochi di fianco alla circoscrizione, abbiamo riqualificato completamente il parco di Via dell'Altarello. Oggettivamente, prima di intervenire, e devo essere sincero e dir la verità, sulle aree non di proprietà comunale, dobbiamo intervenire sui giochi e sulle aree giochi nostre. Abbiamo fatto, abbiamo riqualificato circa 20 parchi giochi negli ultimi 18 mesi e continueremo a farlo. Ripeto, cercheremo di avere più attenzione, magari di sollecitare un pochino più di controlle, ma quello che è importante è che se qualcuno vede gruppi di ragazzi che si divertono a fare i danni nel parco giochi, non è che lo scrivono su Facebook o si girano dall'altra parte, ma magari gli prendono il numero di targa nel motorino, li segnalano e forse magari se sbattono il muso imparano.